Musica Leggermente quest'anno è alla quarta edizione, inizierà il 30 giugno, finirà il 30 luglio. I luoghi della nostra rassegna sono Villa Fabricotti, dove vedremo sul palco personaggi del calibro di Francesca Mannocchi, Gianrico Carofiglio, le due finaliste al premio strega Raimo e Galletta. Inoltre si aggiungerà quello che è il percorso per bambini e bambine presso la biblioteca Ragazzi, con autori come Morosinotto oppure Vera Gherm. Mentre in Villa Minbelli la domenica sarà dedicata a The Talk e si intitolerà la Domenica delle Dei. Grazie a tutti.